non è impazienza e non è impazienza è apprezzamento non può applaudire e qui il suono il semaforo dura un tempo sufficiente per poi passare con la gorra il cappello al contrario e chiedere ecco qua guardate la gente in questi casi al contrario tino dei fazzolettini lavavetri è sempre più disponibile perché paga l'arte guarda come ti chiami bruno è andata con la gorra si ecco la gorra a prendere a prendere l'apprezzamento dice i baresi come sono pagano no super bene super bene e la gente non ha preso super bene io sono di argentina e la mia compagna di francia dove vi siete conosciuti in colombia capite il giro del mondo qual è è vero intorno al mondo era adesso eravamo abitando in bologna ma spero mi sono confuso argentino francese in colombia bologna una cosa da matti e perché a bari perché bari perché a bari perché stiamo andando in tutta l'italia volevo andare al sud quindi è un giro italiano che vi porta qui come si chiama la tua compagna ciao annuel annuel mon père mon père francese mon père pinouche pinouche a maubeuge a maubeuge il abitè a maubeuge e quindi tutto bene tutto a posto super bene super bene mangiamo ogni giorno da dio che cosa è mangiato che cosa è mangiato di pizza pasta pesce tarali romaggio romaggio la faccazza la faccazza quella tonda con i pomodorini la focaccia le orecchiette con le bracioli anche bravi bravi bisogna educarli bisogna educarli quanti anni avete io 33 siete giovani io 26 addirittura addirittura un po vi ricordate michele rossella e col camper però anche lo bruno e annuel l'abbiamo l'abbiamo lì al furgone lui quindi andate col camper anche voi furgone 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 vabbè vi abbiamo tolto un rosso un poco di pazienza al prossimo andate non hai paura che ti travolgono che qui sono si è con la scala ma va bene sono respetuoso non mi sotto anche non lo fa quelli che suonano e perché gradiscono non perché vogliono e le piacere tantissimo fare il tit 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 Moe Aspe ha detto Aspe ha detto che alla gente piace tantissimo fare tit 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 pure a te piace fatti ti tiachè invad è normale pure lui, come ti chiami tu? Donato, vai a fare il TTT, ciao Donato, va bene quindi al prossimo Rosso ci fai vedere uno spettacolo, faccio vedere uno con il monociclo gigante, vai con il monociclo che stai lì sulla scala, è vero una cosa pazza, signori e signore, ladies and gentlemen, Anuel e Bruno in uno spettacolo mai visto, solo per il quotidiano italiano, solo per il quotidiano italiano, in esclusiva Bari, Anuel, la soprana giocoliera e Bruno si esibiscono in un numero ad altissima difficoltà, soprattutto perché siamo all'incrocio fra Viano Orazio Flacco e Viano Giovanni XXIII, uno dei più pericolosi di Bari, eccolo qua, guardate Bruno sta dando il meglio di sé, una interpretazione così profonda, così Paga, paga, mi raccomando, dai, dai, non fare il taccagno, che ha detto che i pareti sono... Sì, sì, noi, te lo raccolgo io Bruno Sì, campione Vai, vai Bruno, vai Grazie mille Grazie a tutti, grazie a tutti Grazie mille Dai, vai a prendere i soldi, Anuel, dai, dai Corri Anuel, corri Anuel, corri Anuel Corri Anuel Origina, proprio lui, lo vedi così, originalissimo Ragazzi, vi voglio bene, arrivederci Arrivederci, ciao Cocca al lupo Roca al lupo I O O I O I O I I I I